Diciamo che i posti sono molto, molto, molto ridotti, perché diciamo che all'inizio ci hanno promesso un 6x8, invece adesso 5 metri e mezzo per 8 stiamo malissimo. Loro ci hanno promesso che dovremmo rimanere qui non più di un anno. Speriamo che mantengono le promesse. Ma se no va anche bene, ma non c'è gente che abbia soldi, non c'è niente. Io non sono affatto soddisfatta. La settimana scorsa sì, forse per la novità c'è un sacco di gente. Invece questa settimana notiamo che moltissime persone si lamentano per i parcheggi, soprattutto la mancanza di parcheggi. I parcheggi sono praticamente tutti presi dai residenti, logicamente è anche normale. Hanno fatto una cosettina un po' più carina, sono più in ordine. Finalmente hanno fatto un mercatino carino. Speriamo che i clienti vengano a saperlo, perché non lo sanno ancora. E penso che qui si possa solo migliorare.